Un saluto a tutti e ben ritrovati con i nostri appuntamenti, ma soprattutto con Sharkoon che ritorna prestissimo, proprio su questo banco di prova, con la tastiera MK80 ed il mouse M51+. Meccanica come i giocatori pretendono e retroilluminata a LED RGB per soddisfare i giocatori più raffinati, la MK80 arriva con un bundle che include ben un poggiapolsi da installare secondo necessità ed un appendino per porte, mentre driver e manuali sono disponibili in download direttamente sul sito. La tastiera offre anche un classico layout 104 tasti ed un design elaborato coltanto che basta per sfuggire dalla classe di prodotti squadrati e distinguersi dai canoni, a partire anche dall'ottima stabilità concessa dai piedini antiscivolo di grosse dimensioni. Ha disposizione anche un hub aggiuntivo, versatile e pratico per collegare mouse, pen drive, lettori e cuffie analogiche e digitali grazie alle porte USB e audio jack replicate con l'aiuto dei cavi aggiuntivi. Ci vengono offerti vari modi di controllare sia le funzioni della tastiera che il rapporto con il sistema operativo utilizzando le combinazioni fra i vari tasti addetti ed il tasto funzione riconoscibile dal loco Sharkzone, così riusciamo ad esempio a gestire i vari effetti grafici concessi dal sistema RGB anche senza accedere al software di programmazione. Gli effetti a disposizione sono tanti e già pronti all'uso, dalla classica rotazione all'onda di colori, passando per il reattivo, ed il software a corredo consente inoltre di creare nuovi schemi statici pur mancando la possibilità ad esempio di programmare di dinamici come in altre soluzioni, del costo però molto più elevato. Le altre possibilità messe a disposizione dal software coprono le esigenze rimaste, con 5 profili disponibili, la possibilità di rimappare i tasti con pressioni singole o macro più complesse immagazzinate sulla memoria interna. Sull'altro lato della scrivania, l'M51 Plus è un mouse forte di un bundle allargatissimo che include il tendifilo MB10 dotato di ben 4 porte USB, retroillumiazione monocolore ed una base adesiva. Il mouse 51 in sé ha parecchio in comune con il Draconia, con cui convide l'ergonomia per destri con linee molto profilate, preferibilmente per giocatori palm, che potranno utilizzare agilmente tutti gli 11 tasti programmabili presenti sulla scocca, posizionati per non essere mai d'intralcio. I pad sulla base sono disposti bene e quando usurati la sostituzione è semplice con il set di ricambio. Sul margine inferiore apriamo l'alloggiamento per le zavorre, 6 unità da 5 grammi ciascura che portano il peso dei 115 grammi di base a 150 circa. L'illuminazione RGB non è ingombrante ma ci fornisce un minimo di personalizzazione ed utilità, insieme all'indicatore dei DPI a 4 livelli. Queste impostazioni particolari sono gestibili da un software semplice, con tutte le funzioni che ci possiamo attendere, programmazione di macro e palette dei colori inclusa. Costruite appositamente per rilanciare l'immagine del marchio nel mercato delle periferiche gaming, con lo scopo di diventarne anche un protagonista essenziale, queste due nuove soluzioni targate Sharkzone sono quanto di meglio Sharkoon produce nelle rispettive classi ed offrono al giocatore un corposo pacco di caratteristiche a circa 140€ per la tastiera e 50€ per il mouse, un affare, se si considera soprattutto l'aggiunta dell'hub USB con tendifilo integrato. È vero che entrambe non arrivano ad un livello di qualità premium, ma le scocche in plastica sono ben rifinite e solide, capaci di sostenere un utilizzo prolungato in gaming e soprattutto sono più che a livello rispetto a quanto richiesto. Bene, giunti al termine noi ringraziamo Sharkoon per i sample offerti ed utilizzati in questo video, ma soprattutto voi per averci seguito, ci rivediamo quindi ai prossimi video appuntamenti proprio qui su Next Hardware il cane italiano con le migliori periferiche viste e testate.